Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo ennesimo video, l'ultimo però per te, l'ultimo quello che ci sta forse con te, andrà a concludere questi 5 video, 6 video che hai portato sulla nutrizione, ricordiamo che lui è Leonardo, è un mio carissimo amico laureando in scienza e la nutrizione umana, ci troviamo ancora qua in questa sala di Guantanamo con la sala invasta dalle football praticamente, le palle, tra le palle, questa è solo una ma la ragazzi sono 6 o 7 contatti, vabbè non si capisce, hai perso il fuoco per sempre adesso, vabbè spero che sia ripreso, detto questo ragazzi oggi andremo a concludere il discorso quello sui macronutrienti ed è principalmente legato a che cosa? Ai grassi, era l'ultimo che ci mancava, l'ultimo macronutriente, nel precedente video abbiamo descritto carboidrati e proteine, adesso vediamo i grassi in linea generale ovviamente cosa sono nell'ambito sportivo e la loro funzione è nell'organismo, ok allora, voce alta, così ti sentono, ok, i grassi definiti anche lipidi apportano 9 kilocalorie per grammo e nella varietà di un uomo adulto corrispondono al 20-35% del fabbisogno calorico, ma percentuali che comunque possono variare in base al tipo di soggetto, in base al tipo di contesto, principalmente la loro struttura chimica come si suddivide? Sono formati principalmente da carbonio e idrogeno e vengono classificati in base alla loro struttura, cioè in base al numero di doppi legami di carbonio che sono liberi, quindi avremo acidi grassi saturi, moninsaturi e polinsaturi. Gli acidi grassi saturi sono tanto temuti perché correlati al rischio di patologie cardiovascolari e anche altro tipo, ma perché? Perché la loro struttura è altamente, diciamo, instabile in quanto hanno un'elevata temperatura di fusione, però possiamo vedere, possiamo notare adesso, tra poco, che alcuni acidi grassi saturi sono anche innocui, per esempio l'acido stearico contenuto nelle uova e facilmente, diciamo, è innocuo, cioè non arrega nessun danno all'organismo, quindi può essere acquisito in totale tranquillità. Poi abbiamo comunque l'acido aurico e miristico che però si trovano burro, margarine, questi hanno un effetto non positivo sul nostro organismo e quindi vanno assolutamente evitati. Poi c'è quelli che vanno limitati come l'acido palmitico contenuto, per esempio, nell'olio di palma. Però, naturalmente, ricordiamo che ci sono anche degli acidi grassi che apportano un certo beneficio all'olio. Sì, assolutamente. Come quelli appena definiti, l'acido stearico contenuto nelle uova, l'acido stearico, quindi sono ad altro valore biologico, quindi non vanno assolutamente limitati. Oltre ai acidi grassi saturi abbiamo quelli mono-insaturi, la loro struttura chimica li permette di essere biologicamente attivi, quindi possono essere comunque consumati con tranquillità e sono migliori rispetto ai primi, se messi a fare bene. Un esempio è l'acido oleico contenuto nell'olio extravergine d'oliva. E infine, i acidi grassi poli-insaturi, questi ultimi invece hanno una struttura abbastanza instabile e facilmente ossidabili, quindi ciò vuol dire che bisogna limitare il loro consumo. Alcuni però, in particolare due, l'acido linoleico e l'alfa linoleico contenuto nell'olio di pesce, hanno anche azioni benefiche, come ad esempio azioni anti-infiammatorie. Quindi bisogna comunque fare una distinzione, non bisogna andare a colpo sicuro e dire questi fanno male, non li assumo, questi fanno bene, li assumo. C'è comunque una distinzione tra i vari acidi grassi, c'è chi può essere consumato in maniera lineare, in maniera fluida, c'è chi può essere limitato, c'è chi deve essere, è completamente evitato. Ovviamente a punto di vista chimico-strutturale il discorso è molto più complesso, ci basti sapere comunque che se l'acido grasso più ha doppi legami di carbonio liberi, più è facilmente, più è biologicamente attivo e quindi più è benefico per il nostro organismo. Questo è un punto di partenza. Nel nostro organismo come si comportano i grassi? Si comportano che come per le proteine abbiamo le proteasi, come per gli amidi abbiamo le amilasi, per i lipidi, per i grassi abbiamo le lipasi, però dal punto di vista organico, quando noi assimiliamo degli alimenti incontinenti grassi, questi sono insolubili in acqua e quindi questo rende difficile il compito alle lipasi di scenderli, i nutrienti per questo organismo, quindi bisogna renderli prima solubili e chi ci pensa, ci pensa la bile. Si. Appunto un solvente organico del fegato, liquido del fegato, che rende solubile appunto i grassi che noi introduciamo con l'alimentazione e poi a quel punto gli enzimi addetti e le lipasi possono scendere i grassi in glicerolo e acido grasso. Appunto gli acido grassi poi verranno trattenuti nell'intestino tenue, dove poi verranno messi a disposizione del fegato e immagazzinati, oppure verranno messi a disposizione dell'intestino e aggregati al colesterolo, quelli in eccesso, via anche a disposizione di grassi in eccesso al colesterolo elevato. Questa è la loro funzione nell'organismo e possiamo concludere, diciamo, con la loro funzione nello sport. Importantissimo. Importantissimo, sì, ovviamente. Tanto rinomati, tanto anche evitati, ma in realtà sono ottimi produttori di ormoni come il testosterone, quindi una quota ottimale di grassi equivale a raccorsare il nostro corpo e renderlo più prestante. Anche la performance aumenterà. Ovviamente bisogna sempre partire da quello che abbiamo detto nel primo video. Andate a beccare. Andate a rivederlo. Questa principalmente è la loro funzione nello sport. Poi ovviamente mai eccedere, perché un eccesso, come abbiamo già detto, di uno dei singoli, quanti nutrienti o tutti a tre, può portare a gravi conseguenze. Nell'organismo li abbiamo appena descritti. L'unica cosa che magari potremmo aggiungere è che hanno diversi tipi di funzioni. Le più importanti sono funzioni comunque ormonali che abbiamo descritti e anche modellatore, nel senso la giusta quantità di grassi permettono di distribuirsi meglio nel corpo, quindi fungono da modellatrice, come si suol dire. Questo è quello che riguarda i grassi in linea generale. Poi ovviamente ci sarebbe un discorso da fare molto più ampio, come la stessa cosa nei carboidrati, le proteine e quant'altro. Naturalmente ragazzi, quello che vi ricordiamo sempre è che noi qua stiamo dando delle basi, degli input, delle... Qualcosa affinché voi comunque possiate usufruire facilmente. Però naturalmente se dobbiamo fare un discorso molto più ampio, il video uscirebbe troppo lungo e sarebbe... No, non è sostenibile. Non è più sostenibile. Noi quello che ci interessa diciamo è divulgare le basi perché noi siamo convinti che dalle basi una persona può muoversi. Senza basi... Però con criteri. Sì, assolutamente, assolutamente con criteri. Il nostro consiglio è quello sempre di rivolgersi a un medico nutrizionista, un esperto del settore. Però la conoscenza è fondamentale, diciamo l'informarsi è fondamentale. Queste sono le basi per partire da un percorso alimentare. Poi a seconda di quello che si deve fare, ambulance, lavoro di ambulance, oppure lavoro di potenza, ipertrofia e quant'altro, allora uno va giustamente innanzitutto da un dottore appunto abilitato e poi comunque giustamente poi seguirà quello che... Non si scherza assolutamente. Bene ragazzi, anche questo video finisce qua. Io ringrazio Leonardo per la pazienza che ha portato tutto il pomeriggio dalle tre. Io ringrazio sempre per avermi permesso di parlare. Sono felicissimo di commentare questa serie di video. Ragazzi, se avete dei dubbi per prezittà qualsiasi altra domanda scrivetelo nei commenti oppure contattatemi in direct su Instagram o su Facebook comunque dove in.sport.fit è il nome dove siamo super attivi. Lasciate, seguiteci e lasciate un bel mi piace al video. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità che in questo periodo saranno volate praticamente. Detto questo ragazzi vi lascio un buon allenamento da in.sport. Ciao!